e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi come vedete faremo un death run e io non scommetto niente perchè non ho mai fatto un death run prima d'ora e quindi non so come se lo so fare o no cioè in pratica un death run consiste che ci sono dei cecchini penso che lo sapete ci sono dei cecchini che ci sparano e noi dobbiamo correre fino a una meta dove ci sarà un car armato e noi dobbiamo prenderli e poi spararli tutti come vedete non dovremo farci colpire dai cecchini perchè ci nasconderemo tipo dietro queste cose e i cecchini dovrebbero essere tipo lì su quella che traforma lì e ci sono poi gli rpg corriamo corriamo per la forza forza che non ci hanno visto dai forza che non ci hanno visto ancora ci hanno visto ci hanno visto corri corri oh fermati fermati qui madonna mia già ci hanno visto raga ho già ci hanno visto come vedete ci colpisco con i cecchini come ho detto saranno lì io non ho neanche snack non dovrei avere snack nell'inventario quindi sto proprio allora vediamo un po' inventario, inventario ecco qui inventario snack ok va bene faccio questo qui andiamo a prendere come diceva bene andiamo avanti qui dovremmo essere protetti vai 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 qui siamo protetti via questa barra aspettiamo per andare corri 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 ferma e va qui ok ma tu raga cioè questo cosa è proprio difficilissimo andiamo andiamo corri 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 qua mi fermo perché poi devo entrare nell'autobus sono pieno vulnerabile dai dai corri no no non c'è parte non c'è parte meglio che non mi sia questo balausto perfetto ok fermati qui ok balonda stiamo fermi qui per un po' sono bisogno di sparare i miei piedi no non possono sparare i miei piedi perché è tutto protetto il mio amico è morto no è lì fermo bravo io mi mangio intanto uno snack me lo mangio snack ecco me lo mangio un altro ok già è meglio corriamo adesso corre corre ok ferma 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 di qui no dove cazzo di fermi speriamo di qui non mi colpiscono corri 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 dentro il contene dentro dentro vai corre ancora 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 ferma qui ferma qui ok guarda c'era quanto cazzo è lungo sto death run madonna mia ho sferato i colpi con un salto ah l'hanno eliminato il mio compagno no no ma ma vaffanculo che sfiga che sfiga ragazzi sono un coglione sono un coglione madonna mia vabbè adesso saremo noi cecchini questo round l'abbiamo perso purtroppo non chissà se loro sono molto bravi o meno bravi non lo so questo ma speriamo che riusciremo io ho avverto non so proprio il massimo a cecchinare quindi spero che questo video ci entri tutti in 15 minuti perchè io registro come vi ho scritto in precedenti commenti che me l'avate chiesto alcuni io registro con lo share del tasto play della playstation ehi ma bisogna capire innanzitutto da dove partono da giù eh eccolo infatti eccolo madonna mia come lontano è lontanissimo come caccio faccio a colpirli eh boh eh abbe si qui sul protetti oh quello come corre oh colpito dai che aspetto qui dai dai esci fuori dai eh lo vabbè eh lo vabbè ci sono anche questi cosi sopra eh un buono non abbiamo cortito qui questo passo dentro l'altro giusto lo cortito no no dentro l'altro giusto eh vabbè non ho cortito il caccio dai muoviti a caricare spesso appena cerchi il passare boom dai forza dai 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 eh beh beh sì mi è già passato quello vai vai cadì addosso sì perfetto ma non è morto ma che cazzo di spiga è cioè ditemi voi che cazzo di spiga è mai colpiscito e carica la luce madonna mia il suo consiglio appena scoccolta dai 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 dobbiamo riuscirci cazzo oh grandissimo il mio compagno di squadra che l'ha colpito grandissimo mio compagno di squadra ha fatto un buon lavoro accoppito almeno a manda non mi devo distrarre guardando il microfono vai oh colpito vaffanculo sì abbiamo colpito e vinciamo questo round perfetto e andiamo avanti col prossimo round ma devo vedere di raggiungere la meta raga senza farmi colpire da nessun cecchino ok speriamo che non si lagga tutto dai 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 caricamento 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 come me attenziano montaggio raga ce lo possiamo fare 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 dai 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 non facciamo sperato di non fare la stessa fine di me che ci buttiamo giù bohari moriamo spiattellati andiamo andiamo a te nemo a te nemo a te nemo a te nemo a te currico di 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 ferma di cui abbiamo raggiunto la prima dove cazzo sono loro io esco con ricordi per cazzo fermati qui o madonna mia come cazzo colpiscono questi voce ma che roba è ma l'attività dai ti lasciano tutti i gai per due 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 ma non capisci un cazzo ma bravo 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 tutto lo spado di valiglio perfetto ho 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 mettendo qui sono reti dai dai non ci posso sparare millesimo di secondo colpo sperato madonna mia siamo quasi al punto di lì no no sali 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 ok la vita cusci con di poter che mi posso colpire ai vai via ecco non io no allo stato c'è chi ha tritto in fronte dai dai compagni di supporto guardando il tempo dai che posso dai che ce la puoi fare dai vai sei un grande vai vai che sei un grande vai vai corri bravo qui sei protetto vai corri corri nasconditi aspetta non correre non correre così tanto aspetta va bene vai corri corri bravo bravo vai vai che sei un grande vai bravo qui devo so eh vabbè facciamo un round round raga purtroppo io penso di farci entrare tutto il video in una parte ma purtroppo non ci entrerà quindi vedrete una seconda parte lo caricherò più presto questo video per farvelo vedere perché penso che questi i defran mi piacciono queste spese di defran mi piacciono alla fine è un last team standing fatto così io però devo arrivare una cazzo di volta ai cari armati o ai dietro i pg quelli che siano le sue devo spararli mitragliarli tutti insieme boom un'esplosione continua ok adesso dobbiamo noi cecchinare di nuovo il mio personaggio apre la bocca senza motivo parla boh che cazzo lo capisce che cazzo fa comunque c'è defran come questi qui così lontano non ne avevo ancora mai visti questo qui è il primo defran che faccio da così lontano bravo quello è caduto bravissimo perfetto adesso ce ne rimane uno solo quello è un grande che si è buttato giù ed è caduto adesso spariamo questo qui ah ma matta come è passato ricarica vai colpito e siamo vai così e siamo due e siamo due due persone colpite ci buttiamo giù e non moriamo attenzione guardate sono immortali in questo momento sono immortale wow così poco 870 dai che schifo di denaro vabbè continua continua dai continuiamo 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 mi sa che la clip è quasi finita quindi raga aspettatevi una seconda parte mi raccomando lasciate tanti like a questa prima parte iscrivetevi al canale commentate fatemi sapere se vi piacciono questi defran mi raccomando in tanti e condividete i miei video fateli vedere ai vostri amici e tutti i vostri amici su facebook su instagram su tutto quello che volete ok andiamo avanti adesso io devo arrivare a qui fottuti rpg corriamo lì impazzata via io mi fermo qui perché devo levare questo ok ah che cazzo è ma dai sono con cui io non c'ho guarda io non ho parole non ho parole proprio sono morto così respiriamo di nuovo in lui vai corri 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 non perdere tempo dai attenzione ah vai vai con questi questo patrocino provocante deve andare a male dai forza eh purtroppo l'hanno colpito si guardate lì che posizione è morto vabbè round perdente round perdente che ci possiamo fare raga purtroppo sono sfigato dico sempre che ci arriverò qui a scacci di rpg ma poi muoio come un cretino andiamo avanti forse se vinciamo questo dobbiamo aver vinto tutto credo 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 non so per certo non sono certo proprio 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 certo speriamo di vincere almeno almeno questo è il cacchio di da effronando perché almeno per portarvi qualcosa dove vinco sennò sembrare un coglione se vi porto qualcosa dove perdo però voi supportatemi lo stesso se i miei video vi piacciono lo so che vi piacciono ma non c'è la moca devo nuovo giù e comunque un coglione morivo attenzione eccolo eccolo non cazzo colpito no non ho colpito niente colpito vai colpito e vai muore e stiamo di nuovo l'ho colpito anche quello e ho colpito tre persone fino adesso vai l'ho quasi colpito cacchio adesso dentro nell'autobus cercherò di colpirlo dentro l'autobus oh è già passato bene non bene cioè male questo male devo colpito adesso che esce uno due tre niente niente uno due tre forza oh vai 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 che lo prendi no non l'ha preso mannaggia adesso faccio cadere questa qui aspettiamo che esciva qua eh vabbè è stato inutile far cadere la cosa merda oh questo guardate che ci arriva i contene aspetta questo ci arriva gli eppg porca puttana dove sono gli eppg eh sì vabbè deve trovare ancora tutto questo vabbè dai cerchiamo di colpirlo adesso qui appena esce vediamo verso sopra eh no vabbè non abbiamo colpito niente niente ancora dai 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 questo è difficile da colpire sta andando veloce veloce molto bravo aspetta nei momenti giusti si ferma nei momenti giusti non corre e mannaggia l'avevo quasi colpito l'ha colpito grande è caduto giù l'ha colpito i miei compagni è stato un grande va bene così ragazzi è proprio in tanto quest'altro round splatteriamoci di nuovo senza morire round vincitore perfetto adesso corriamo a prendere quei cacchio di rpg ora devo prenderli ora devo prenderli dico sempre così e poi muoio come un cretino però ora c'è devo riuscirci ora c'è dai alla fine non è proprio tanto difficile perché non ci riesco dai 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 carica 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 e carica 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 dai 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 adesso ci dobbiamo questo piccone qui che non ci serve a niente cioè che ce lo mettono oddio scusate che cazzo ce lo mettono a fare il piccone se poi cioè non è che dobbiamo andare a fare una miniera non lo so guarda oh ok ma qui ci sono queste gomme avevo mai visto lo sai ok dai 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 io l'ho sparato no non cadere giù corri corri non cadere no che cazzo perché fa queste cose oddio hanno compito i miei amici adesso sono da solo sono da solo corri oddio allora mi hanno sferato un piede mi hanno sferato proprio un piede troppo da qui in sede nia